Questa è in terra, altra sigilla, salta, hop, hop, bravo, guarda là, no, puoi però non è così, saranno efficaci. Perché noi tiriamo di collo, ricordi? Tiriamo di collo cosa? Vuol dire? Avversario. Facciamo un equilibrio. Prima per verificare quanto è veloce lui torna, questi sanno lupare, sanno davvero, sono quelli che sanno, anche questi, sì, quando fai, fai, e lui torna. No, mi sembra che sanno un cazzo, un cazzo. Tu vi stai, stai qua, tu ti toconta, hop, fai, hop, che torna bene, super, perché, fai, 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 hop, lui torna oppa, wow, 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 gotto, vui, lo ci si vedi recato, fai, toccato. Diecci secondi. Perché appena lui cadde,elinja stai qua, fai, fai, chistco, foco. No, 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 dentro No, non devi fare troppo, basta che giri, hop, vai fuori, vai fuori, su fuoco, capito? Anche se vai, però guarda, sinchera, cioè in lotta, quando tu fai questa cosa, solito vuoi fare, vuole prinsi, vuoi spucarci, perché quando vuoi fare qualcosa, quando vuoi stai compotendo, solito ti viene vuole fare una cosa più semplice, capisci? Sì, non vuole voglia di attaccare, bene, se andrà così, andrà bene anche così, però devi fare subito, appena lui non è pronto, vedi? Se sarai mobile e veloce, lui non reagisce, appena lui cade, tu già sai che tu stai seguendo, come un missile, vedi? Vai piano, si alza e tu subito ti trasforma, anche se viene qua, anche se può, vai con questa presa, vai con questa presa, vai con questa presa, e fufoca, sì, vai, vai, corri avanti, no, no, con questa ganga, no, dentro, 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 e vai, no, non corsa, vai di là con la ganga, fufoca, sì, ok? Ok, la tua forza è abbastanza per fare queste cose, capito? Sì, bene, le prese di gambe mi sembra che non faranno, questo è Achille, Achille, però dai facciamo, magari chissà, ah, canone Achille? Achille, ci facciamo solo una o due tecniche, però io volevo vedere cosa ricordi, cosa no, è andato bene, però, sì, Achille, ben qui, questo, fuori, sono qui, vedi? Qua mi interessa solo tu, non mi interessa polpaccia, mi interessa qui, io cado tirando, tirando, e ci copro, vedi? Ci copro, qua, da senti, vedi? Ci copro, qua, vai piano, vedi cosa faccio, braccio, poi ci copro bene, funziona? Sì, sai come è liberato? Sì, è liberato, no, aspetta, prima metti gambe, piede, alzati bene e giri, oh, bravo, devi alzare, girare l'osso, capito? Devo essere bagnato, un po' umido, giusto per figurare, non ricordo tanto, era, sì, devi attaccarti con gamba, a questa gamba, no, fuori, fuori, oh, questo controllare da te, vedi? Sì, poi pian piano cadere, girando, hop, no, no, sento, questo rimane qui, questo rimane qui, questo lasconde, bene? Fa, c'è, fatti, devi, fatti, devi, fatti controllo, giro un po' e regrippi, 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 fai, 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 sta debilitando, sì, però tieni, caviglia, non, fai, faccio, adesso fai, luoco, gibrati, Grazie a tutti